Vabbè a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Siamo tornati su grande richiesta con il terzo episodio della reaction ai segreti dei miei fan Ovvero i vostri segreti Vi ho chiesto di mandarmi su Instagram un messaggio con su scritto un vostro segreto E che dire, mi avete intasato i direct Ne approfitto per dirvi che se anche voi voleste partecipare ad un mio prossimo video Mi raccomando seguitemi su Instagram, il mio editor ve lo scriverà qua sotto in grande Perché è lì che vi avverto di quando devo registrare un video Cosa devo registrare e cosa dovete fare per potervi partecipare Ora però se avete lasciato un bel pollicione su sotto il video e vi siete iscritti al canale Direi che possiamo partire, sono stra curiosa quindi let's go Cominciamo con il primo segreto Una volta ero a casa di mio cugino che mi doveva tipo 15 euro perché gli avevo pagato il Mac Allora dato che lui è un tipo che non sta molto attento a queste cose gli ho rubato 10 euro Lui non lo sa ancora e spero che non lo sappia mai Allora mi dispiace un po' per tuo cugino nel senso 10 euro Soprattutto se si è più piccoli, sono comunque tanti soldini Magari era tipo la paghetta dei genitori che si era sudato male Gli hai portato 10 euro, sei un po' alled Facciamo finta di niente Chiudiamo un occhietto Lo so solo io, lo sei solo tu Andiamo avanti Quando ero più piccolo sono andato al mare dei nudisti E ero l'unico in costume E il bagnino mi ha tolto il costume davanti a tutti E io mi sono messo a piangere Allora io, fossi stata tua mamma Avrei fatto partire una denuncia al bagnino Perché il bagnino non credo che possa lì venire a toglierti il costume Cioè nel senso ti avverte, ti dice togliti il costume O, cioè, nel senso, il bagnino che ti viene a togliere il costume È una cosa brutta Sembra una scena di qualche filmino un po' Capitemi, un po' spinto Mi sto mangiando i capelli Nel dubbio, sì, posso capire il trauma Io personalmente non andrei mai in una spiaggia di nudisti Né perché vorrei mai io mettermi a nudo Cioè nel senso, roba mia Né perché vorrei mai vedere gli altri Quindi posso capire il tuo trauma Da piccola ho messo nel carrello della spesa dei miei Un pacco di preservativi E quando siamo tornati a casa Ho detto a mia mamma che mi servivano per la festa di compleanno Pensando fossero palloncini Allora, a me questo segreto sa un po' di fake Sa un po' di sforzato Perché personalmente La cosa di associare il preservativo a un palloncino È una cosa che viene fatta Perché quando lo gonfi Può sembrare un palloncino, ok? Però la confezione non assomiglia per niente A una confezione di palloncini Quindi non capisco come tu da piccola Possa aver scambiato la confezione appunto Dei preservativi con quella dei palloncini Mi sa un po' di fake Però se veramente l'hai scambiati Non so per quell'assurdo motivo Non oso immaginare la faccia dei genitori Quando non ho visto te con i preservativi in mano Vabbè, molto avanti questa ragazza nelle cose Proseguiamo Una volta ho rubato una verifica di francese L'ho fatta a casa Perfetta E la settimana dopo Quando la prof era distratta L'ho messa nella borsa Senza che se ne accorgesse Mi mise dieci Da lì sono l'idolo della classe Anche questo segreto mi puzza un po' Io non ho mai sentito di verifiche fatte a casa Cioè la verifica si fa in classe Nel senso Aveva senso se tipo Rubavi la verifica Controllavi le domande A casa le studiavi E poi a scuola rispondevi giusto Perché sapevi già le domande della verifica Ma la verifica che si fa a casa E che poi devi consegnare alla prof a scuola Non l'ho mai sentita Anche perché a casa uno copia Non ha bisogno di vedere Comunque la verifica Già fatta Cioè Oddio mi state triggerando Nel senso Secondo Non può essere un segreto vero Dai Non ha senso Beh fatemelo sapere nei commenti Cosa ne pensate Io personalmente penso sia un po' una bufala Vigevano i tempi delle elementari E sono andata in bagno E dopo essermi schiacciata le dita sulla porta Mi sono pisciata addosso Perché stavo ridendo Nonostante il dolore alle dita Ma in che senso? Cioè tu ti schiacci le dita nella porta Quindi un male cane Ti metti a ridere Invece che piangere Ti sei pisciata addosso Quindi invece di far uscire liquido dagli occhi Per il pianto L'hai fatto uscire da sotto Per la pipì Eh questo Allora Che sta roba mi fa ridere Raga Ma in che senso? Ma io se mi schiaccio le dita nella porta Grido dal male Ma non ho mai sentito una reazione così opposta A quella che dovrebbe essere Cioè ridere per il dolore Vabbè proseguiamo Mi state sconvolgendo un attimo tutti Ciao Giorgia Era notte Avevo mal di pancia E sono andato in bagno Tutto normale Mentre andavo in bagno Ho sentito dei rumori come Ah 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 Vabbè abbiamo capito Ho fatto finta di nulla Poi il giorno dopo Sono andata a curiosare Ed ho trovato dei preservativi Nel mobile di mio padre Allora ragazzi Ci sta che da piccoli Possa essere una cosa un po' traumatica Però in realtà è normale Che i genitori facciano le loro cose Anzi meglio così Perché se fanno le loro cose Si rilassano e sono contenti Se non le fanno C'è qualche problemino E poi finiscono per litigare E fare cose brutte Quindi capisco il trauma Ci sta Nel senso Trovare comunque i preservativi Sul comodino del padre Può essere un po' così Però è una cosa normale Stai tranquillo Proseguiamo Un mio segreto È che tre anni fa Dei miei amici Mi hanno fatto bestemmiare in chiesa PS Io odio smadonare in chiesa Quindi mi è partita per sbaglio Ok Nel senso Cattivoni Gli amici che ti hanno fatto smadonare in chiesa Se non ti piace farlo Comunque ti dà fastidio farlo Ci sta È un segreto Che probabilmente non dovrei sapere io Ma dovrebbe sapere il tuo parroco Se sei cristiano Comunque frequenti la chiesa Sei praticante Dovresti confessarti Giusto col tuo parroco Con il prete Quindi perché lo so io E magari non lo sa il prete Qui in Giorgia futura preta Lo scoprirete soltanto vivendo Proseguiamo Mi sto cringiando Ok Il mio segreto È che per sbaglio Mentre ero a scuola Ho toccato le tette Di una mia amica E mi sono imbarazzato un botto Ciao Soldato Ottimo lavoro Missione compiuta Hai toccato per la prima volta Delle tette Fantastico Missione compiuta Vabbè Io nel senso Ci sta l'imbarazzo Perché se le tocchi per sbaglio Ok Non volendo Può essere traumatico Però se lo racconti I tuoi amici Sicuramente saranno fieri di te Ometto Saranno fieri di te Quindi vabbè Ci sta Un bel segreto Un bel segreto in realtà Ciao Giorgia Il mio segreto è Che a sei anni Ho limonato una mia amica Non so se commentare O lasciare commentare a voi Dato che il video è mio Dirò semplicemente Che secondo me Questo segreto È una Ma come fai a sei anni A limonare Se devi ancora capire Che cos'è un bacio a stampo Che cos'è un bacetto innocuo Cioè Non è possibile A sei anni Devi ancora capire Che cosa c'hai tra le gambe E mi dici che hai limonato Con una tua Cos'era Amica Con una tua amica No no È palesemente Una bufala Palese Eravamo in classe Io e cinque miei amici A un certo punto Per scherzare Un mio amico Mi dice Di accendere Manro Molto losco Io lo faccio veramente Mentre lo stavamo guardando Entra qualcuno Dalla porta di dietro Della classe Io in quel momento Ho pensato Che se era una mia amica Se fosse stata Una mia amica Correggiamo Gli avrei potuto dire Che stavamo guardando La formula 1 Oddio Tra roba sconce Formula 1 Credo ci sia un mare In mezzo Però se ci cascava La tua amica Ok Ma non era così Infatti era la nostra professoressa E ha sentito Orgasmi E tutto Allora Io non so Se mi prendete Per il colù Quando mi scrivete Ste robe O le ingigantite Tantissimo Perché Allora Se fosse stata La tua amica Dietro Tu hai detto Che avresti detto Che sarebbe stata Formula 1 Quella che stavi guardando Però Se la professoressa Ha sentito Gli orgasmi E tutto Perché la tua amica Non avrebbe dovuto Sentirli Cioè scambiava I versacci Con i Della formula 1 Nel senso Non è stupida Quindi c'è qualcosa Che non quadra In questo segreto Nel senso Se veramente La professoressa Ha sgamato Vedere un pornazzo Mi dispiace Nel senso Bel segreto Simpatico Ma non mi torna Molto il collegamento Con tutto quello Che hai scritto Però Del dubbio Se è successo Veramente Mi dispiace per te Cioè Non immagino La relazione della prof Avevo sei anni Una notte Mi sono svegliata E ho sentito Dei rumori strani In camera dei miei genitori Ecca là di nuovo Sono andata a vedere Che succedeva E io ho trovati Mentre Io sono scappata In camera mia Urlando E piangendo Ho vissuto un trauma Vi ripeterò La stessa cosa di sempre Nel senso È una cosa normale Però da piccoli Ci sta a rimanere traumatizzati Non oso immaginare Il dopo Cioè mi immagino Te che scappi urlando E piangendo traumatizzata Non oso immaginare La reazione dei genitori Tuo papà col pesce in mano Tua mamma Lì così a gamba verte Che si saranno dovuti vestire Li hai pure interrotti E venire adatti a consolarti Mentre stavano Facendo delle loro cose E vabbè Nel dubbio Sono cose normali Ragazzi non stupitevi State tranquilli È normalità Meglio così Un mio segreto imbarazzante Che mentre ero a lezione a scuola Ho tirato una scureggia Di quelle silenziose Ma letali E ho dato la colpa Ad un mio compagno Fra Tu si che sei un uomo vero L'ho fatto anch'io Assolutamente si Mi vergogna dirlo Assolutamente si Lo rifarei comunque Assolutamente si Si l'ho fatto anch'io E non una volta sola Donna vera ragazzi Donna vera Quando ero piccolo Mio zio a tavola Faceva sempre l'antipatico Ok così Lui quando si sedeva a tavola Lo zio era antipatico Durante il resto della giornata No ma a tavola era antipatico Così una volta Quando sono andata a fargli un caffè Dopo che mi ha rotto le palle per minuti Gli ho messo del peperoncino Al posto dello zucchero Dando la colpa Alla macchinetta del caffè Che era vecchia Ciao ciao Sarà grande Continua così Intanto ciao Va Va veramente Cioè tuo zio ha veramente Creduto Che fosse stata la macchinetta vecchia Del caffè piuttosto che te col peperoncino Però bello Nel senso vindicativo Se non se l'hai data Una bella vendetta Ci sta Se avessi messo il sale Probabilmente non potevi usare scusanti Se non Ops mi sono sbagliato La cosa del peperoncino nel caffè Non so che reazione Dà al gusto Quindi Bella idea però Da provare Lo proverò su Martina? Forse Martina sta sentendo? Probabile Facciamo silenzio Ho beccato una coppia di fidanzati Farlo nei bagni di un ristorante Allora C'è da dire Che ci sta Farlo in posti particolari Perché rende tutta un'atmosfera Beccitante Più wow Però c'è da dire Che per la persona Che entra nel bagno Vuole andare in bagno Sentire cose Capire che c'è gente Che sta facendo cose losche Non va molto bene Anzi Non so se lo sai Ma se avessi denunciato L'accaduto Questi qua Si sarebbero beccati Una bella ramanzina Ecco Non si può fare Nei loghi pubblici Ovviamente È straviedato Una volta Penso di aver interrotto I miei genitori Mentre facevano cose Ormai Il video di oggi È semplicemente Voi che sgamate I vostri genitori Fare cose strane Qua ovviamente Non c'è stato nessun trauma Probabilmente Perché chi me l'ha scritto È un pochettino più grande Però ha interrotto I genitori Fare le proprie cose E diciamo che Può essere un po' bruttino Nel senso che Se sai che si stanno divertendo E stanno facendo robe E li interrompi È un po' triste Però niente GG Non so se sei rimasta O rimasto Traumatizzato Traumatizzata Però sono cose che succedono E anche qua Lo devo dire Concludiamo con questo mega segreto Una volta da piccola Circa 5 anni Ed ero in macchina con mia mamma Da un botto di tempo E lei scende per andare in un negozio E mi lascia lì Ok Quindi eri in macchina Con tua mamma Lei scende E ti lascia un attimo lì Per fare una commissione Solo che a me scappava troppo la pipì Allora cosa ho fatto Sono andata nel sedile dietro E l'ho fatta dove solamente Appoggi i piedi Fatto sta Che mia mamma Non si è mai accorta di tutto ciò E ringrazio Dio Che dopo nemmeno due giorni È cambiato macchina Poveretta Allora Aspetta un attimo Intanto Il fatto che tu avessi 5 anni Non giustifica Questa cosa qua Nel senso Come ti viene in mente Di far la pipì Nel posto tipo Dietro dei sedili della macchina Dove appoggi i piedi Cioè Beh in che senso Ma poi tua mamma Come ha fatto a non accorgersene Cioè la senti l'odore di piscio Cioè è un odore forte E fastidioso Cioè O non ha detto nulla Magari a te non ha detto niente Ma magari quando poi Tu sei andata a casa Quando era da sola Ha cambiato il tappetino Comunque quella zona L'ha pulita Pensando che fosse magari Pipì di un animale Che magari si è portato sotto le scarpe Non lo so Non so cosa abbia pensato tua mamma Che fai a non sentirlo della pipì Io appena lo sento vomito Cioè Vabbè Sono un attimo sconvolta Basta Voglio finire qua Non voglio più fare questi episodi Non chiedetemi di più Che ogni volta mi pressate Con sti segreti Ma mi fate rimanere sconvolta Cioè Oh mio dio E anche questo terzo episodio Dei vostri segreti Si può reputare concluso Come al solito Mi sono stra divertita A leggere i vostri racconti Anche se non vi nego Che ovviamente Molto spesso Rimango sconvolta E traumatizzata Da ciò che mi scrivete Spero che anche voi Vi siate divertiti Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti E vi ricordo Che se voleste partecipare Di un mio prossimo video È necessario Che mi seguiate su Instagram Il mio editor Vi starà scrivendo Il mio nome Qua sotto Gigantesco Ora però Come al solito Vi comunico Che siamo giunti Al termine di questo video Quindi spolliciate Commentate come dei pazzi Noi ci becchiamo mercoledì In un nuovissimo video Bella ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti